Adesso c'è l'esibizione per la terza squadra non in gara, loro sono i fuori classe, quello che faranno lo sanno solo loro. Qualche minuto di... di... di? Qualche minuto di per loro e in bocca al lupo ragazzi, vavo a io! Vai! Con le mani! Con le mani! Sono un re matto, cambio spesso regole, non pergo mai, mi trasformerò, sarò lupo in rondine, per vincere. E' freddo nel fuoco, io non ho paura, giuro non aver... Ragazzi, oh! Ma che retta è questa serietà? Facendomi capire! Frate, io volevo... Vino a pezzo a me, vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Basta! 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 Ma basta serio però eh! Abbiamo... Fuori! Fuori studio! Fuori studio e fuori classe! Fuori studio e fuori classe! Via! Partizione di mani ragazzi! Vai! Basta!